Stai attento, guarda che il muro fa ombra, giusto, fa ombra, dà fastidio. Boh, io non so se è necessario. No, spiegami, quando uno dice una cosa devi spiegare. Mi spieghi che giochetti sta a fare con il tuo? Mi sembra che stavo giocando. Sì, mi sembra che stai a giocare. Mi devi dare spiegazioni che c'è il panico mio. No, proprio. Devi scappare! Perché sia buono solamente a scappare! Vai! Via! Saremo pure una bella coppia. I calciatori si mettono sempre con le piscalle che fanno la TV.